Allora, siamo qui con due dipendenti all'arriva, non lo sappiamo, lo capiamo oggi. Allora, tu sei un ex licenziata reintegrata trasferenda ripresa dal Maviva. Esatto, esatto. E tu sei un apparto GS preso dal Maviva Contact dal 23 di novembre. Perché però i tuoi colleghi sono stati rinternalizzati perché è stato dimostrato che quella parte è lecito. Quindi tu sei in attesa di altre sentenze che dimostrano che anche tu è lecita perché se quello è lecito i tuoi colleghi dovrebbero essere. Quindi sei in via di essere un ex collega sua perché teoricamente... Ok, finito lo scherzo... Aspetta, io non sto a Roma, io sto a Catania. A Catania, quindi siete colleghi e non colleghi. E tu sei a Catania, aspetta, perché il sito di Maviva Roma è chiuso. Peccato che ce stanno loro. Però ce stanno loro, esatto. Quindi per noi è chiuso. Per loro che sono stati inseriti da circa un mese è aperto. Cioè della serie Vietato l'ingresso dei cani agli ex al Maviva. Esatto, gli ex di 1600 Vietato l'ingresso, i nuovi su cui lucrare si può fare. Allora qua noi imploriamo Francesca Fornario di venire e raccontarci questa storia perché ci serve, credo, un giornalista satirico per raccontare, un humorista, un copico, un teatrante. E questo è il mondo del lavoro e degli appalti in Italia. Allora, Maviva chiude, 1600 dipendenti perché deve sfruttare maggiormente la mano d'opera. Il call center di un appalto pubblico si dimostra che fondamentalmente è solo interposizione di mano d'opera. La GSA, azienda pubblica, appalta ad aziende la propria mano d'opera pure là per diminuire i diritti e far fare profitti agli amici di amici. L'ultima che vince è l'Almaviva che intanto licenzia. Questo è il risultato, secondo noi, di anni di regolamentazione per le aziende. A noi ci chiedono la flessibilità, a noi chiedono di adattarci a ogni istituzione, ai lavoratori, ai lavoratrici, appunto, chiedono questo, le aziende possono fare profondità. Luca, non è flessibilità, tutto quello che fanno è precarietà perché si parlano dietro la parola flessibilità, ci vogliono anche dare, diciamo, un nuovo linguaggio più a favore del padrone perché non è flessibilità. Quello che noi viviamo ogni giorno è semplicemente precarietà per fare favore dai soldi pubblici, statali, quindi i miei, i suoi, i tuoi, e tutti noi, e tutti, dargli alle casse dei privati che più gli piacciono, scaricando il peso dei loro maggiori guadagni sul meno guadagno nostro, che praticamente altro non facciamo che lavorare per poter vivere. L'unica cosa che possono fare, come diceva Bertini, l'Italia è un paese di gente che vuole lavorare timidosamente con un lavoro, un salario e portare avanti la propria famiglia. Quello che vogliono toglierci è appunto la nostra dignità di avere una componente umana in favore di che cosa? Del capitalismo e del maggior guadagno di queste squadre sul mercato. L'altro io voglio dire, anzi tutto questo nel silenzio collettivo, cioè nel silenzio di tutti i professori politici che dovrebbero essere tenuti a rappresentarsi, invece ci propongono il taglio del costo del salario, anzi ti vengono a dire taglia del costo del salario altrimenti perde il posto di lavoro. Un po' questa è stata un po' la sentenza di Alma Viva in cui noi ci siamo ritrovati con 1.666 centimenti di lavoro. Ecco adesso ci dicono di sgomberare la piazza, pure questa è una nota di colore, siamo davanti a una chiesa, i lavoratori che sono in sciopero, tra l'altro per quanti giorni di sciopero ormai avete fatto? Allora in Alma Viva sono 103 giorni di sciopero, sono appena entrati in Alma Viva subito in sciopero, ma nel complesso ormai da un anno quasi... Sì, in novembre abbiamo fatto 80 ore di sciopero, 80 ore di sciopero in un solo mesi di novembre, hanno chiesto un presidio di fare sotto l'azienda, non gliel'hanno concesso, li hanno messi davanti a una chiesa, non si sa bene perché... Magari però vanno anche loro nel miracolo, sì, forse l'elemosina è l'unica cosa che vogliono che i lavoratori pretennano, però insomma qua si continua, la lotta contro gli appalti e contro questo sistema veramente illecito il truffaldino deve continuare, perché appunto questi sono i risultati altrimenti, storie... A cui noi ridiamo perché altrimenti ci sarebbe da incazzarci troppo... Io dico sempre che io ho il diritto di avere diritti, questo voglio sottolinearlo e lo dirò sempre, ho il diritto di avere i miei diritti... Grazie, potere al popolo!